bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e grazie di cuore per aver guardato in tantissimi il primo tutorial che ho caricato ieri di realm royal come vi avevo anticipato oggi vi faccio vedere invece un'infarinatura generale della lobby in game e del gioco in sé intanto ragazzi come vedete questa dopo che avrete premuto il tasto play ovviamente come vi ho spiegato ieri è la lobby di gioco non è altro che una barca volante con dentro 100 giocatori in realtà ne vedrete solo 25 ma al momento della partita ce ne saranno 100 e quello che vediamo innanzitutto è intanto sposto la cam perché vi potrebbe dar fastidio dopo no magari la sposto ma non la tolgo eccomi qua in alto a destra le daily quest vuol dire le sfide giornaliere ogni quest vi dà 2400 punti esperienza ed è importantissimo perché vi aiuteranno tanto a livellare nel pass battaglia in alto ancora di più nell'angolino il numero di giocatori che ha la lobby in questo caso siamo in una lobby full da 100 mentre di là in alto a sinistra il nome del giocatore la barra della salute e poi ci sarà anche la barra dell'armatura il pollettino sono il numero di polli che vi sono rimasti e adesso vi spiego che cosa sono il teschio sono le kill e piano piano quei quadrati bianchi vuoti si riempiranno con le armi e le abilità che otterrete in game la mappa ragazzi è meravigliosa guardate che mappa anche questo vi ricordo è un free to play mappa più grande di quella di fortnite assurda tanti biomi tante cose facciamo che noi scendiamo un pochettino lontano in modo che riusciamo a capire meglio il da fare innanzitutto premendo il tasto space per chi gioca da computer il tasto salto in realtà ci si lancia dall'aereo non vi preoccupate perché non c'è il paracadute e non esiste come vi anticipavo il danno da caduta diciamo che noi scendiamo qua in questa zona vi consiglio sempre di atterrare in una zona che ha come vedete là nella mappa il logo giallo lo vedete quel logo giallo piccolino nella minimappa quelle sono le forge questo come avete visto invece è un forziere nel forziere possono uscire escono sempre due oggetti che possono essere due armi un escono anche più di due oggetti a volte scusatemi possono essere armi pozioni abilità o altrimenti rune in questo caso noi abbiamo il primo assalto vedete che la rarità di quest'arma è comune è scritto sotto assalt rifle common weapon le rarità in questo gioco sono quattro comune bianco raro verde epico viola leggendario giallo se noi prendiamo il nostro fucile ovviamente spariamo con il tasto di sinistra miriamo con il tasto di destra se noi apriamo l'inventario e ci portiamo sopra con il mouse vediamo le statistiche il danno il range il fire rate e la precisione vedete che in basso a destra si è riempito la prima casella due caselle per le armi in questo caso noi prendiamo anche la pistola e come vedete fucile e pistola di fianco uno con l'altro se avete settato i tasti come vi ho fatto vedere nel video di ieri con la rotella in qualsiasi direzione voi switchate le armi in basso a destra ancora due caselle una vuota che è la casella per le abilità e l'altra che è la casella delle abilità di movimento come le riconoscete ogni abilità di movimento ha disegnato un omino in questo caso ogni classe del personaggio che decidete di scegliere guerriero mago ranger o assassino inizia con un' abilità sempre in questo caso il mago ha un'abilità che si chiama soar che vuol dire levitazione se io premo il tasto più esterno verso di me laterale del mouse il mago vola easy il guerriero salta non ricordo quelle dell'assassino o del cacciatore se noi decidiamo di non volere questa abilità vedete che qua dal forziere ne è uscita un'altra con il tasto e la andiamo a cambiare una sola abilità di movimento per tipo in questo caso abbiamo un'abilità che fa una capriola dovrebbe essere un'abilità del ranger noi possiamo trovare in tutte le partite anche le abilità delle altre classi e le possiamo utilizzare tranquillamente come per le armi anche le abilità hanno quattro rarità come un eraro epico leggendario come funziona il discorso ragazzi molto semplice l'idea è quella di andare in giro aprire i forzieri o aprire anche questi forzieri che sono importantissimi questi sono i più importanti sono le casse che danno le pozioni cosa sono le pozioni sono le vedete sotto di me vicino alla barra della salute che di fianco c'è scritto 0 e 0 se adesso io apro ho preso due pozioni verdi che sono quelle che ci ridanno 300 punti salute le più importanti sono le pozioni gialle che ci danno 300 punti armatura apriamo un altro cesta in questo caso c'è un'arma se io non voglio un'arma e non voglio lasciarla per terra vedete che nella nel pop up che si è aperto c'è il tasto l shift disenchant for 4 shard se io premo il tasto maiuscolo di sinistra distruggo l'arma e prendo quattro pezzi sta arrivando gente un momento i quattro pezzi ragazzi che si sono aggiunti proprio sotto di me vicino al polletto aspetta che ammazzo questo ok vedete io ho ammazzato un giocatore lui non è morto è diventato un pollo o comunque in questo caso è diventato una specie di mostriciattolo se lui per 30 secondi adesso lo facciamo vivere non lo ammazziamo se lui per 30 secondi sopravvive ritorna ad essere il personaggio di prima con tutte vedete adesso noi lo riammazziamo ancora non è un problema e lo finiamo per uccidere una persona dovete completamente chillare quando è nella forma del mostriciattolo vedete che lui ha rilasciato un sacco di cose questa invece che non ha disegnato sopra un omino è un'abilità normale è verde quindi è rara noi con il tasto e la prendiamo e come vedete si è inserita di fianco nella casella in basso a destra se io la volessi utilizzare sempre se avete seguito il mio tutorial avete seguito i tasti come li ho messi io con il tasto del mouse laterale più avanti io tiro questa abilità che è una palla di fuoco vedete che ci sono anche le armi di rarità diversa allora attenzione non potete mai avere due armi uguali non potrete mai avere due r due pistole due vampa fucili come questo però potete ovviamente cambiare la rarità delle armi vedete che ci sono delle frecce verdi quando su un oggetto che sia un una abilità o un'arma vedete delle frecce verdi vuol dire che la rarità è migliore delle armi che avete voi in questo caso io voglio cambiare una delle armi più brutte del gioco che è questa pistolina che vi consiglio proprio di non prendere mai e quindi l'ho sostituita con un vampa fucile distruggo sempre tutto quello che c'è per terra questa invece è molto forte è una pistola consiglio a tutti di giocare le pistole in questo gioco perché sono fortissime distruggiamo qua c'è un'altra abilità di movimento la voglio prendere ve la faccio vedere guardate cosa succede avete visto è un teletrasporto immediato se non la voglio tenere basta solo che la vado a sostituire ogni abilità ha un cooldown quindi ci sono dei secondi di attesa tra le volte che potrete utilizzarla tra una volta e l'altra e questa è quella di cui vi parlavo prima una delle cose più importanti le pozioni armatura queste pozioni premendo il tasto g sì io l'ho settato su g vi ridanno 300 punti armatura e sono indispensabili come vi anticipavo prima di salutarci atterrate sempre in una location che ha questi loghi i loghi gialli con l'incudine perché sono le forge vi faccio vedere come si mostra una forgia eccola qua è tutte sono sempre uguali quindi c'è un incudine gigante con un martello mi avvicino a una forgia tengo premuto il tasto per raccogliere e si apre un menu mi sposto io un secondo così lo vedete bene in questo menu che è essenziale per giocare si possono forgiare tante cose come vedete c'è un costo però il costo che è espresso con il numero 15 se guardiamo la prima riga non è altro che i pezzi che ottenete o uccidendo i nemici o distruggendo le armi pozione salute importantissima pozione armatura ancora più importante arma di classe si forgia sempre l'arma del personaggio si forgia sempre armi e pozioni di rarità epica e leggendaria possiamo forgiare l'abilità che è la prima casella delle due abilità il movement ability che è la seconda casella e possiamo anche forgiare un'altra cosa importantissima che è la runa forgiamo una runa che cos'è una runa intanto c'è un cooldown e come vedete il bordo del timer sta ad indicare la rarità dell'oggetto che state craftando la runa si andrà a posizionare proprio sopra alla barra dell'armatura mi risposto un attimo in alto così vi faccio capire dove sotto di me qua ci sono delle caselle vuote sei rune a partita potete ottenere le rune servono per avere delle abilità speciali uniche per tutta la partita questa runa in particolare si chiama weapon damage rune fai il 15 per cento di danno in più con ogni arma vi ci avviciniamo la prendiamo e come vedete sotto di me proprio qua è apparsa una runa insomma ragazzi questa è un'infarinatura generale su quello che vedete spero che vi sia piaciuto questo tutorial mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo questa notte alle 23 15 su twitch con real royal ciao